Qual è l'invenzione più incredibile del mondo? Beh, per me la videocamera a filmare ha reso la vita più semplice a tante persone e ora se qualcuno dice la tipica frase «Mio cugino in America ha la nuova PlayStation», possiamo subito sgamarlo per capire se è vero o meno. Grazie ovviamente anche a Internet. Ma a parte l'inutile utilizzo che vi ho appena detto, alcune videocamere e pure fotocamere vengono usate a volte per riprendere e fotografare oggetti o animali fuori dal comune, che non avremmo mai pensato di vedere. Proprio questi ultimi saranno il fulcro di questa top. Top Benvenuti dal vostro top tenner di quartiere in questa top topposa e spero carina. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo! Numero 6 Un maialino dalla capigliatura figa? Un mini cavallo? No, signori e signore! Questo essere è stato visto in Cina e sfortunatamente solo una foto è stata scattata per la velocità a cui era scappato al primo avvistamento. Tanti all'inizio pensavano fosse un maiale geneticamente modificato, cosa non nuova in Cina dove all'insaputa di molti i laboratori eseguono vari esperimenti su animali e tanto altro. Dopo un'accurata ricerca si è scoperto essere una rara razza di cane senza pelo con una volta chioma da stallone. Il problema è che essendo selvatico è dura da ritrovare e studiare più specificatamente. Numero 5 I calamari in media possono raggiungere una lunghezza massima di 50 centimetri. Vengono utilizzati in tanti piatti diversi da chef e mamme o papà casalinghi. In pochi quindi fanno ricerche o altro, o sanno che ne esiste uno enorme, ma davvero enorme. Un calamaro che potrebbe mettere noi su un piatto e mangiarci. Nel Golfo del Messico una telecamera subacqua ha ripreso un calamaro di quasi 4 metri. Il raro animale si trovava a circa 750 metri di profondità, ma la cosa incredibile è che i calamari giganti possono raggiungere anche dimensioni più vistose, tipo 15 metri. E quindi il team di esperti che l'ha visto ha capito subito fosse molto giovane, ma comunque anomalo. Insomma diciamo che non nuoterò mai più in vita mia. Numero 4 Il topo cervo è un animale di cui avevamo già parlato in un video precedente e come avevo raccontato portava una malattia particolare, che non vi dirò. Non per farvi vedere il video precedente, ma perché non ricordo manco io. In rete esiste anche il cervo topo, però. Ritenuto una leggenda, fino all'anno scorso è riapparso nelle foreste del Vietnam. E il Guardian ha pubblicato il video sul suo canale YouTube mostrando un essere dalla forma davvero strana. E inusuale. È grande come un coniglio e gli piace nascondersi. Non adora farsi vedere, per questo motivo erano 30 anni che non ne veniva filmato uno. Solitamente non arriva a pesare 10 chili e il suo nome è dato dalla particolare conformazione delle sue gambe. Numero 3 Il tilacino, che sembra il nome di un dessert, è in realtà un marsupiale carnivoro che viveva in Australia, Tasmania e Nuova Guinea. Era un superpredatore in cima alla catena alimentare. Era un superpredatore in cima alla catena alimentare. E avrebbe fatto rabbrividire anche le bestie carnivore di oggi, senza problemi. Era così carnivoro che il suo stomaco si poteva allargare per far entrare una preda troppo grossa. Nonostante fosse un po' lento, non indietreggiava quasi mai. Assaliva qualunque cosa in movimento pur di nutrirsi. E ovviamente era di una ferocia senza precedenti. Sfortunatamente, o fortunatamente, è estinto nel 1936. Perché l'ho aggiunto in questo video? Alcuni online hanno guardato l'ultimo video esistente di questo animale e hanno pensato fosse qualcosa di misterioso. Ma non lo era. Se mai vedeste un video del genere, sappiate che è semplicemente uno dei predatori più spaventosi del mondo ormai estinto. Numero 2 Per molti anni si pensava i leoni bianchi fossero soltanto una leggenda metropolitana. Insomma, nei tempi andati non c'erano le tecnologie di osservazione di oggi, quindi era difficile riuscire a beccare i momenti giusti in cui alcuni animali uscivano dalle loro tane. Ed era difficile avere qualcosa portato di mano sul momento che permettesse di immortalare momenti unici. Ma alla fine ecco i leoni albini. Davvero tanto rari. Nel 2016 erano nati 5 cuccioli di leoni bianchi nello zoo di Kiev in Ucraina. Assolutamente bellissimi da vedere. Ad oggi non so che fine abbiano fatto. Numero 1 Il Bigfoot è da sempre stato una leggenda molto molto famosa. Praticamente ogni persona al mondo la conosce. Negli Stati Uniti, in una montagna piena di neve tutto l'anno, una telecamera notturna ha ripreso una specie di Bigfoot. Oieti, chi lo sa. L'essere ha una movenza molto strana e allo stesso tempo imponente. Internet aveva cominciato a fare le sue supposizioni e tanti dicevano fosse semplicemente un video fake. Io non saprei sinceramente, sto esponendo il video, quindi non so che dire. E visto che per me è più importante la vostra opinione, fatemi assolutamente sapere nei commenti. Con questo concludiamo questa piccola classifica. Spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.